Seconda parte della Madonna del Pianto di Caderizzi di Pontida. Siccome io non so come siano andati in realtà i fatti, prima di realizzare la seconda e ultima parte di questo video, ho letto il testo alla guardiana del santuario e lei mi ha detto che va bene. Eravamo arrivati al 1876 e da lì perciò partiamo. Il 1876 fu l'anno della morte nera. Un flagello si abbatté su Pontida e le donne non riuscivano più a mettere al mondo un loro bambino vivo e se ci riuscivano dopo pochi giorni madre e bambino morivano. Sembrava una di quelle maledizioni bibliche che misero in ginocchio l'Egitto perché tenevano in schiavitù il popolo eletto. E quello che doveva essere il giorno più bello per una famiglia e anche per una donna, la nascita del proprio figlio, si trasformava in un lutto. Benché per evitare questo spetro della morte che aleggiava su Pontida, quel poco che poteva fare la medicina di quei tempi, lo si metteva in pratica scrupolosamente, ma tutto risultava inutile. Allora il prevosto del paese, Don Giovanni Battista Milesi, uomo santo e pio, ministro di Dio di vecchio stampo, di cui i pontidesi ne hanno ancora una grande e devota venerazione, visto che la medicina del tempo non era in grado di capire e porvi rimedio a quanto stava succedendo in Pontida, decise di rivolgersi alla Madonna addolorata di Caderizzi e con il cuore straziato dal dolore, per quanto accadeva nella sua parrocchia, salito sul pulpito della chiesa di San Giacomo in Pontida, gremita di fedeli, fece questo solenne voto, che se avesse liberato il paese dalla morte nel quale era sprofondato, tutti gli anni, nel venerdì di passione, i fedeli del paese, con le spose innanzi ed i ceri accesi, in solenne processione, sarebbero andati al suo santuario, offrendogli poi in segno di devozione alla sua sacra immagine. Immediatamente gli animi dei fedeli si rasserenarono, e il paese, come per incanto, guarì dalla pestilenza nel quale era finito. E la riconoscenza dei parrocchiani fu tale che si cominciò a pensare di ingrandire la chiesetta. Perché più gli anni passavano, sempre nuovi fedeli, anche dai paesi vicini, accorrevano alle processioni che diventavano sempre più solenni, in ricordo del miracolo fatto. E anno dopo anno, sempre nuovi fedeli accorrono al suo richiamo. E fin dalla vigilia della sua festa, che è il venerdì di passione, tutta la notte il santuario e la zona circostante viene illuminata a giorno con le fiaccole votive dei fedeli. Ed è un continuo affluire di donne con i loro compagni, che dopo aver partecipato felicemente alla processione, giunti al cospetto della Vergine miracolosa, in segno di devota riconoscenza, pongono ai suoi piedi il cielo acceso. Per chi crede in lei, non vi è tribulazione umana alla quale non vi ponga sollievo. E benché ora viviamo in un'era la quale sa tantissime cose, ed ha un rimedio quasi a tutto, la gente continua a ricorrere al suo aiuto. Perché per certi avvenimenti si possono spiegare solamente con la fede. L'anno successivo, per intercessione delle madri e delle spose, la chiesetta venne restaurata. È posto sul campanile un nuovo concerto di campane. E sulla maggiore, che pesa quattro quintali, venne posta questa iscrizione. A te, Vergine dolorosissima, che hai cambiato in gioia i dolori delle donne partorienti, liberandole dalla morte, il suono di questa campana annunzia ai popoli le tue misericordie. Le donne, che non riuscivano ad avere un figlio, o le altre, che per quei tempi era normale averne una decina, si rivolgevano a lei perché le aiutasse nei loro parti. Un'altra bella usanza, anche lei fiorita fin dal lontano diciottesimo secolo, è quella dei giovani sacerdoti, che la loro prima messa la celebrano nel santuario della Vergine addolorata, dedicandogliela come ringraziamento per averli aiutati nel loro tirocinio di preparazione al sacerdozio. Passati gli anni bui della prima guerra mondiale, le mamme di Pontida si diedero da fare perché la chiesetta venisse ingrandita, per adempire ai loro voti fatti, perché facesse tornare vivi dalla guerra i loro figli e parenti, e chi invece fosse defunto lo avesse portato in cielo assieme a lei. La prima pietra benedetta venne posta il 15 settembre del 1919 da Don Ildefonso Schuster, abate di San Paolo in Roma. Con le guerre succedute dopo, fino a quando terminò il secondo conflitto mondiale, le madri e le spose continuarono a rivolgersi sempre a lei, perché vegliasse sui loro mariti e figli, in giro sparsi nei fronti di mezzo mondo, fra fame e stenti, a fare la guerra. Ma bisogna aspettare il 1954 e che l'economia del paese cominci a girare, perché si potesse dare inizio al nuovo ampliamento, quello che possiamo vedere ora, che ne mutò anche la direzione, che prima era da sud a nord, ora invece da est a ovest. E grazie allo spazio reso disponibile con un ampliamento, si potè aggiungere il culto di nuovi santi, che potrete vedere voi stessi andando a visitare il santuario. E per chi non ci è mai stato, è giunto il momento di farlo, perché certamente male non vi farà. Nel 1958 diventa Papa Roncalli, e questo grazie a diverse manifestazioni che ne ricordavano le sue visite, perché quando era studente ed andava a studiare a Celana, era sua abitudine passare a trovare la sua cara amata zia, che abitava nei paraggi del santuario, e questo ne aumentava ancora di più la sua notorietà. E a tale ricordo, come potete vedere, venne posto questo basso rilievo, opera di Renata Cuneo, per ricordare il Papa Buono, che ebbe sempre una sincera devozione per la Madonna del Pianto, e una grande amicizia stima per gli abitanti di Pontila, paese nel quale vivevano diversi suoi parenti. Ma bisogna aspettare il 1987, l'anno del centenario del miracolo delle madri. Solo allora si poté capire quanto era grande il culto della Madonna del Pianto di Caderizzi. Per l'occasione arrivò gente da tutte le parti, ma erano talmente tanti che il piazzale e gli spazi adiacenti non riusciva a contenerli tutti, e le funzioni vennero fatte all'aperto. E poi un fiorire incredibile di iniziative, che non sto a descrivervi, ma che coronarono con successo la manifestazione del centenario. Ma ora veniamo i nostri giorni. Le donne che per i più svariati motivi non riescono ad avere un figlio, oppure le altre che stanno per metterlo al mondo ricorrono ancora a lei, che è la madre di tutti noi, perché le aiuti in questo momento felice e magico della loro esistenza. E dopo aver assistito alla Santa Messa e aver ricevuto la sacra benedizione, si recano dove è la fonte, e bagnandosi le dita si fanno il segno della croce e ripongono un mazzo di fiori. Grazie a tutti.